Mi ha dato di marciare in Akhita una persona che durante la guerra mondiale era stata interna in lo che c'è il hotel che conosceva di oggi. E poi è una persona che ha dato a tenere per il motivo del pensamento di una marxista, socialista e è una persona che sempre aveva visto che io, e io, è stata base per io su politica, su formazione politica, e aveva instruito io per le sabote che arriva il terreno. E io poi ho interessato a me da parte politica, io ero interessato a quello che è stato passato da Cuba con Fidel Castro, con Che Guevara, e io ho interessato a me da una persona con Cornelius Wilson che è stato un tipo di attivista di terreno politico, che non mi ha dato un'idea sociale, un'idea socialista in un po' di me, e io poi ho messo in contatto con l'intera idea di Arruba, con Betico Cruz, che sono persone che sono molto importanti in una formazione politica, e io ho messo in Boneiro, e ho messo in contatto con la Becci Sicilia, che sono stato nel sindicato, e io ho interessato a me da parte di Arruba. e con la sua relazione con Cuba, aveva ricevuto il Coran Grama, un Coran di rivoluzione cubana, e io ero interessato a me da parte di l'intera, di lezione, che sono stati di terreno, e di una sua carriera politica, ero interessato a me da parte di Arruba, che sono stati più forti, con la base di Boneiro, e ero interessato a me da parte di Arruba, e di una società distinta, con i nostri lavoro, che sono stati di Caminda, che sono stati in 54, e ero interessato a me da parte di Arruba, che per l'intera della Santella, che sono stati molto spiegati con l'autonomia. Sì, in realtà io ero una persona molto sociale e io ero a buscare di passare quando vivi al bambino di Pueblo e io ero a involverare la loro gente e io ero a una persona a abri e io ero a conversare e io ero a liberare in tutto il momento e così io ero a questa crescita in politica e diventa una persona molto importante e io ero a creare anche amici e anche anche amici però poi io ero a non ero a essere amici non ero a avere un'opinione altra e io ero a involverare in politica e io ero a questo terreno di ristrutturazione di Antia e io ero a votare l'elezione, a votare l'elezione e io ero a perdere l'elezione e io ero a far filo di sua vita per esempio la BIMBEC e l'entere è assunto di ristrutturazione di Antia che è la teresa di l'antica ora che avviene con Antia che arruba sale fu e la vista che noi abbiamo un lavoro buono che noi stiamo arrivando grazie 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 grazie